La colonnetta di Chieti Scalo ringiovanita di quasi 2000 anni. Si tratta del cippo miliare di epoca romana, risale al 48-49 d.C., periodo in cui l'imperatore Claudio dispose la realizzazione di alcune infrastrutture verso l'Adriatico. I lavori diedero ulteriore impulso alla romanizzazione di Teate. Oggi la colonnetta si presenta nuovamente ai Chietini, completamente restaurata. È un progetto di cui parlavamo da mesi, è un restauro che aspettavamo da tanto tempo. Grazie al mecenatismo del dottor De Cesare, finalmente riusciamo ad avere quest'opera per fruimento di tutta la cittadinanza e in particolare dei cittadini di Chieti Scalo. I lavori sono stati totalmente a spese della famiglia De Cesare, che con Paolo esprime il vice sindaco. È l'ultimo regalo alla città da parte di mio padre. Scomparso un mese fa, ha detto il titolare dell'impresa specializzata in restauri. È l'ultimo regalo che, in ordine di tempo, mio papà è venuto meno poco più di un mese fa, che mio papà fa alla città di Chieti, per la quale si è tanto speso. Noi con grande piacere abbiamo progettato e realizzato il restauro di questo importante monumento, simbolo dell'intera città e con grande piacere oggi siamo qui ringraziando l'amministrazione comunale per essere il sindaco Diego Ferrara che ci ha dato questa opportunità e sono certo che tanti miei colleghi seguiranno questo esempio e interverranno per riqualificare tanti monumenti stupendi che la città di Chieti vanta e che costituiscono lustro e pregio della nostra città.